Non potevano scegliere che città migliore per fare questa iniziativa perché Napoli è la città che ha attuato pratiche anche amministrative di beni comuni. Insieme alle collettività, insieme alle esperienze cominciate dall'asilo Filangeri e poi si sono estese, le nostre delibere sono state le prime in Italia sui beni comuni, abbiamo anche l'acqua pubblica che è il primo bene comune in assoluto come ci ricorda il Papa, quindi siamo contenti che l'Anci apra un focus nazionale alla presenza anche di autorità importanti nella nostra città. Perché tra le tante cose fatte in questi anni abbiamo dimostrato che si può passare dalle parole sui beni comuni ai fatti, agli atti giuridici e alle azioni concrete.